Grande Fratello VIP 4 Rola X-Con Correnti DELG, i nomi, Anteprimab Logo, di giovedì 2 gennaio 2020 Canale 5, Grande Fratello VIP Antici Pazzioni sulla quarta edizione DELG E Aliti Show di Canale 5 si scaldano Ormai i motori per la partenza previs Da mercoledì 8 gennaio su Canale 5D L'edizione numero 4 DELGRANDEFRA TELLO VIP.ALFONSO SEGNORINI, VANT ANARAI PUTO SONO PRONTI AD ACCOGLE RE CONCORRENTI DI QUESTA edizione DELGFITI CUI NOMI PIU O MENOFFICI ALMENTE SONO STATI RESINOTI NALIO ULTIMI GIORNI.GRANDEFRA TELLO VIP 4 LICIANUN EZ CONCORRENTE LUCIANUN EZ E' UNA DELLE CONCORRENTI DELL'ACQUA ARTA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VI PI E COCHIET VLOG A PROPOSITO DEL CAST DELGFIT 4 ASAPUTO CHE AL SUO INTERNO SONO PREVISTI 4 EX CONCORRENTI STORICI DELLA VERSIONE CLASSIC A DEL PRIMO REALITY SHOW DELLA TELEV ISIONE ITALIANA.ED E' PROPRIO DALLA PRIMA E PIU CELEBRE EDIZIONE DELL'UFK RANNO PESCATI ALCUNI CONCORRENTI DELGFIT 4 SIAMO IN GRADO DI ANN TICIPARVI DUE DEI QUATTRO NOMI PROVENIENT I DALG FUNO VERO SERGIO VOLPINI SOT RANNOMINATO DALLA GIALAPA SOT USANDOLO ESALVO VENEZIANO ALTRIM E' ENCHINOTO COME IL PIZZAIOLO SALD O PERALTRO E' ORE' DIVENTATO UN IMPREN DITORE DI SUCCESSO ESSENDO TITOLAR E' DI UNA CATENA DI BEN 19 PIZZERIE ME UNTRE VOLPINI DOPO ESSERE ANDATO 10 ANDI A LAVORARE AL ESTER DI CELEI PER FAR' DIMENTICARE QUELL'ETICHETT TAC LA GIALAPA SGLIN COLO 20 A NIFA E' POI TORNATO NEL NOSTRO PANES E SCOPRENDO CHE QUELL'ETICHETTACE L'ANCORA ADDOSSO.GLI ALTRI DUE X CONCORRENTI DEL GAF POTREBBERO ESS ER PASQUALE LARICHIA E PATRICRA I PUGLIESE.COME E' NOTO SATIMANAPR OSSIMA CISERA A DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL GAFDIP 4, MERCOLEDI 8 E VENERDI 10 GENNAIO SU CANALE 5, L'INGRESOD E' I CONCORRENTI NON AVERRÁ SOLO NEL LA PRIMA PUNTATA MASERA SPALMATONE LE DUE SERATE IN PROGRAMMA SU CANAL